In occasione dello Short Master in Digital Marketing Turistico in partenza ad ottobre 2022 presso la sede JCOM Italia, nel salotto della JCOM TV, Angelo Pugliese, Founder e General Manager presso So Good Tour Operator, Buon pomeriggio Angelo! Buon pomeriggio Jenny! Bene Angelo, ti pongo questa domanda. Il digital marketing strategico nel settore turistico è fondamentale soprattutto per chi gestisce un'azienda. A tal proposito ti chiedo, come nasce l'idea di creare la realtà So Good Tour Operator e quale ruolo occupi all'interno? A te la parola. Grazie. Diciamo che soprattutto la combinazione di questo team fantastico, di gente esperta, oggi posso fermamente dichiarare di essere il Founder e General Manager della So Good Travel Tour Operator e di essere veramente felice, se non onorato, di avere accanto a me questo fantastico team che collabora, come ormai possiamo dire, in maniera continua. So Good Travel Tour Operator nasce fondamentalmente dalla combinazione di diversi fattori, ma ritengo che i due sicuramente più importanti sono la passione, la passione che ci spinge in questo settore, il turismo che soprattutto, possiamo dirlo, dopo lo tsunami del Covid è stato letteralmente messo in ginocchio. Però proprio questo, come dire, ci ha dato quella spinta di dover portare anche una ventata un po' più fresca, quindi di affrontare il mercato in maniera un po' diversa. E sicuramente anche il secondo fattore da non sottovalutare è anche l'esperienza, che accomuna tutto il team, persone e risorse che hanno comunque non meno di 20 anni di esperienza in questo settore e che messi insieme posso affermare che è veramente, secondo me, una carta vincente. Angelo, ti chiedo, cosa ti ha spinto a partecipare allo Short Master in Digital Marketing Turistico e quali sono le tue aspettative? Eh, Jenny, le mie aspettative in realtà sono tante e sono anche molto alte. Io credo fermamente in una cosa, che il turismo e soprattutto il mondo va avanti. La tecnologia è ancora più veloce di quanto possa girare in realtà il mondo. Quindi ritengo che veramente sia opportuno oggi stare al passo e non ci si può bendare gli occhi, non si può pensare di poter fare tutto da soli, bisogna sempre essere affiancati, avere innanzitutto dei collaboratori, un team che ti supporti e poi anche una presenza esterna che ci dia proprio una mano, ci faccia oleare quegli ingranaggi che molte volte a noi possono essere completamente sconosciuti e questa è la cosa fondamentale da tenere presente. Il turismo è cambiato. Il turismo non è più quello che si pensava pre-Covid. Adesso è completamente e gira in una maniera velocissima. Corre. E noi dobbiamo stare al passo. Non possiamo rimanere indietro, altrimenti rimarremo completamente fuori mercato. Assolutamente, Angelo. Bisogna restare sull'onda. Assolutamente. È proprio vero. Dunque vi invitiamo a consultare il sito G-Future che troverete nella descrizione per consultare il programma completo del corso. Angelo, ti ringraziamo per questa tua bellissima testimonianza. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi.